GF VIP, lo scherzo di Nikita Pelizzone e Edoardo Tavassi, lui si vendica, così. Nella casa del GF VIP, gli animi tra i finalisti appaiono più sereni e distesi. Tanto che Nikita Pelizzone ha deciso di fare un piccolo scherzo a Edoardo Tavassi. I due erano nella zona del bagno e mentre Nikita era nella vasca da bagno, Edoardo ha aperto improvvisamente l'acqua fredda per darle fastidio. Lei, di tutta risposta, ha pensato di bagnare improvvisamente Edoardo con il doccino. La reazione è stata naturalmente esilarante. Sta pensando a come vendicarsi, ha aggiunto Mikola, dopo aver visto Edoardo pensare tra se e se. E, infatti, poco dopo, lui è ritornato con maionese e ketchup, che è riversato sulla testa di Nikita e nell'acqua della vasca. Se fossero stati tutti più veri, spontanei e meno strateghi dall'inizio sarebbe stato un bellissimo GF fatto da episodi come questo di sano divertimento, ha scritto un utente su Twitter. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolcine Italy Music, Summer from Bensound. Come leggi anche, GF VIP, Edoardo Tavassi e il foglio strappato davanti le telecamere, gli utenti chiedono che le immagini vengano fatte vedere. Grazie. Grazie a tutti.